allora andiamo in modifica pagina voglio che quando tocchi pane si ingrandisce quindi che devo fare devo creare un'altra pagina in cui avrò solo l'immagine di pane quindi che faccio me la copio crea un'altra pagina che chiamo pane pagina con pulsanti vuota un pulsante qui c'incollo pane poi che faccio che azione deve fare la casella pane deve tornare indietro in automatico però non fare niente per la pagina torna indietro per farlo fare in automatico deve diventare una casella automatica per far sì che diventi una casella automatica dobbiamo andare nella tastina impostazioni e abilitare attiva il pulsante automatico quindi lo attivo questo farà in modo che questo pulsante si attiva automaticamente torna indietro quindi se io tocco pane bene vedete